Libertà dal peccato vuol dire libertà dalla vita inautentica, libertà dalla vita falsa. Ora se noi pensiamo alla massa di cose inautentiche e false che ci circondano, all'inautenticità dei rapporti, alla non verità degli incontri di persone, a tutto ciò che inquina con l'ipocrisia, con la falsità, col gioco reciproco delle parti, la nostra vita quotidiana. Noi vediamo come questa libertà è importante, abbraccia un po' tutta la nostra esistenza. Abbiamo un immenso bisogno di essere liberati dai falsi rapporti, dalle cose che diciamo o facciamo unicamente perché un certo ruolo ci porta a fare così, malgrado forse ciò che sentiamo intimamente. E quando poi si va nei rapporti sociali o nei rapporti personali più intimi, quelli di famiglia, marito, moglie, genitori, figli, amici, ragazzi, tra loro ragazze, ecco l'importanza di questa autenticità, di questa verità recuperata, che noi veramente sappiamo guardarci in faccia, liberamente, che sappiamo rispettarci a fondo, che sappiamo cercare veramente il bene dell'altro. Ecco il campo immenso di questa libertà dal peccato, cioè da tutto ciò che è falsità, che è sfruttamento, che è uso di un'altra persona e non invece rispetto, amore, verità verso l'altra persona. Ecco la liberazione che ci promette Gesù, che è alla base di tutte le altre liberazioni, perché evidentemente ogni rapporto economico, sociale, poi ai livelli più alti, ogni rapporto politico viene inquinato dalla falsità e dall'ipocrisia dei rapporti e viene liberato dall'autenticità e dalla verità di questi rapporti. Dunque Gesù ci promette questa libertà e ce la promette come? Non come con un tocco di bacchetta magica, cioè così, una parola di Gesù e noi siamo liberati. Gesù ci dice la verità vi farà liberi. Ma che cos'è questa verità? Era già la domanda di Pilato, che però non volle ascoltare la risposta. Ora tutto il Vangelo di Giovanni è una risposta a questa domanda. Qual è la verità che ci libera? Non è semplicemente una parola, non è semplicemente un programma o uno slogan, un cartello indicatore. La verità che ci libera è Gesù stesso, figlio del Padre, amore di Dio manifestato, che ci viene incontro e ci trasforma. Dunque l'importante non è tanto essere figli di Abramo secondo una discendenza biologica. L'importante non è avere questa o quella prerogativa, l'importante è essere interiormente vivificati, cioè avere accolto interiormente nella fede Gesù, figlio di Dio, che ci fa figli e quindi ci mette a nostro agio nella casa di Dio, come figli col Padre. A nostro agio, cioè capaci di parlare con Dio, Padre liberamente, semplicemente, umilmente, senza false devozioni, senza religiosità ipocrite, in una maniera reale, chiara, semplice, come il figlio col Padre. E da questa liberazione interiore Gesù ne produce tante altre, cioè la capacità come figli nella casa del Padre di comportarci liberamente, sinceramente, con verità, con chiarezza, senza ipocrisie, senza finzioni, con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. È una liberazione progressiva che supera l'inquinamento mortale della diffidenza, della paura, della difesa dell'uno contro l'altro e poi delle violenze che nascono da queste difese esasperate e poi delle violenze che nascono dall'opporsi a queste violenze. Ecco come il programma di Gesù sembra partire dal poco, liberazione dal peccato, attraverso la verità, ma se lo accogliamo abbraccia tutta la nostra vita, è capace di cambiare la nostra società. Grazie a tutti.